Allora, volete sapere qualcosa sulle emozioni? Le emozioni sono delle reazioni affettive, sottolineo l'aggettivo affettive, la razionalità non c'è nell'impianto emozionale. Reazioni affettive di insorgenza immediata, non ci mettono molto tempo a insorgere e di breve durata. Nascono nel cervello antico, il cervello antico è quello che abbiamo sotto la corteccia e che è il cervello che abbiamo in comune con gli animali. I nostri antenati che ancora si muovevano tra la scimmia pericoli, per la paura, evitando di mangiare cose nocive per il disgusto, quindi sono state molto utili. Non sono estinte dentro di noi, tutti le elogiano perché se un libro o un film non emoziona nessuno più va a vederlo, altri invece le guardano con sospetto per i pericoli che possono essere connessi alle emozioni. Pensiamo ad esempio l'ira, è un'emozione, che può essere anche uno scenario pericoloso senza riflessione. Facciamo una piccola carrellata di emozioni tanto per entrare nel tema. Per esempio, non so, in epoca di Covid noi abbiamo detto che avevamo paura del Covid, niente di più sbagliato, di più falso. Noi non avevamo paura del Covid, avevamo angoscia del Covid, che sono due cose completamente diverse, perché la paura è un perfetto, un ottimo meccanismo di difesa, grazie al quale, proprio perché ho paura, mi difetto dai pericoli. Vedo un incendio e scappo, metto in atto delle operazioni di difesa, vedo un animale che mi corre dietro e mi riparo. Se non avessi paura, come non hanno paura i bambini, i bambini non hanno paura di niente, e infatti proprio perché non hanno paura si espongono a tutti i pericoli, per cui non so, si arrampicano sui balconi perché non hanno paura, oppure prendono in mano un bicchiere e la mamma glielo toglie perché ha paura che chissà cosa ne fa di quel bicchiere. Quindi i bambini non hanno paura perché devono ancora arrivare all'età della ragione, però i bambini hanno angoscia. Cos'è l'angoscia? Mentre la paura ha sempre un oggetto determinato di cui si ha paura e proprio grazie all'oggetto determinato ci si difende, l'angoscia invece non ha nessun oggetto e consiste nel fatto che si fa esperienza del nulla per cui non resta nulla a cui potersi agganciare. Se voi mettete a letto un bambino e prima che si addormenti spegnete la luce, uscite dalla camera, il bambino si mette a strillare. Perché? Perché ha presso tutti i punti di riferimento che prima aveva quando la luce era accesa e non resta niente a cui agganciarsi. L'angoscia è l'esperienza del nulla. Nel caso del Covid noi dovevamo parlare di angoscia, non di paura, perché dove era il Covid? Da tutte le parti e da nessuna parte. Non era un oggetto determinato, visibile, da cui vi potevo difendere. Però tutti continuavano a parlare di paura e nessuno parlava di angoscia. L'angoscia invece è una bella dimensione. Dalla paura mi difendo dall'angoscia, non mi posso difendere. E anche in età adulta, quando siamo presi dall'angoscia, non abbiamo strumenti di difesa. Ce la dobbiamo tenere finché non passa da sempre. E quando passa ci rendiamo conto che non c'era nulla e occupa di nuovo il nulla di cui veramente angosciarci. Come il bambino non c'era nulla di cui doveva angosciarsi, però si è angosciato col buio. Poi non lo so se vi interessa, c'è la gelosia. Mi pare abbastanza nota come emozione. Però di solito si conosce solo nella gelosia competitiva. Per cui uno ama una donna e quando un altro la corteggia, incominciano i processi di gelosia. Un processo molto semplice. Si chiama gelosia competitiva. Ma ce n'è un'altra più sofisticata, che è la gelosia proiettiva. Io desidero tradire, ma non ho il coraggio. tradisco e ipotizzo che anche la donna che vive con me abbia lo stesso desiderio. Dunque se tradisco ipotizzo che anche lei possa avere la volutà di tradire. Se non tradisco, la rimozione che faccio di questo mio desiderio la proietto sulla donna con cui vivo. Dopodiché incomincio a fare l'investigatore. Adesso poi con i telefonini possiamo sapere dov'è, con chi è, da che parte è. E comincio a diventare un investigatore privato. A quel punto l'amore è già finito. E quindi è inutile mettersi e dire che la gelosia è una forma d'amore. Non è una forma d'amore. È una forma di investigazione. Anche perché noi concepiamo l'amore come una forma di possesso. Signorebbe abolire quegli aggettivi possessivi. Mia moglie, mio marito, mio figlio. Ma stiamo scherzando. Chiamiamoli per nome le persone. Non c'è niente di mio. E tanti femminicidi dipendono proprio dal fatto che ha interiorizzato questa dimensione di possesso. È mia moglie. E allora? Cominciamo a imparare che anche tua moglie è un altro da te. È qualcosa d'altro da te, su cui tu non hai nessun potere. E il rapporto andrà avanti finché avremo la capacità di scoprire il segreto dell'altro. Un segreto che si mantiene solo se l'altro è davvero un altro. Non è una roba mia. Poi c'è l'ira. Aristotele dice arrabbiarsi è facile. Però dovrebbe arrabbiarsi con la persona giusta, nel momento giusto, nella misura giusta, nella maniera giusta e per una giusta causa. Ora che abbiamo fatto tutti questi ragionamenti l'ira si smonta. Però sarebbe la pena di farli questi ragionamenti. C'è il disgusto che viene catalogato come un'emozione negativa. Invece il disgusto è utilissimo. Quando un cibo non ci piace, probabilmente questo cibo non è adatto al nostro corpo. Oppure se è disgustoso, il disgusto ci fa evitare di mangiarlo. Quindi svolge una funzione positiva molto significativa. C'è l'emozione estetica, ben descritta da Stendhal. Stendhal ha scritto un libro intitolato Firenze-Roma-Napoli e racconta che una volta agli uffici di Firenze, mentre guardavo un quadro, a un certo punto gli ha preso una tachicardia, una sorta di cecità oculare, ha perso l'equilibrio, che tutti in terra l'hanno preso, l'hanno portato all'ospedale, si è tirato fuori e ha chiamato questa cosa, si chiama sindrome di Stendhal, che non è solamente un fatto personale che è capitato a Stendhal, perché è uscito adesso recentemente un libro di una psichiatra fiorentina, si chiama Graziella Magherini, la quale dice che succede ancora oggi. E non è raro che qualcuno di fronte a un quadro ha vertigini, confusione mentale, qualche allucinazione visiva, tachicardie, cose di questo genere. Come mai? Dunque qui dobbiamo capire una cosa, che la creazione artistica, chi crea artisticamente, non si crea con le regole della ragione, perché le regole della ragione sono un sistema di regole, appunto, che ci servono per intenderci e per prevedere i comportamenti. Cosa vuol dire? La ragione si fonda su un principio che si chiama principio di non contraddizione, il microfono è il microfono e non altro, eccolo qua, principio di non contraddizione. Ma è vero che il microfono è il microfono e non altro? No, non è vero. Perché io adesso potrei smettere di parlare, prendo il microfono, buttarlo in prima fila e gli cambio il significato, dal microfono diventare ma improprio. I bambini che devono ancora arrivare all'età della ragione cambiano praticamente il significato delle cose. Fanno in mano un penarello e disegnano, poi non mettono in bocca e gli cambiano il significato, lo fanno diventare un biberon, poi lo picchiano sulla testa del fratellino e lo fanno diventare un'arma contundente. Loro vivono nella verità, perché tutte le cose sono disponibili per una pluralità di significati. È chiaro che in un mondo dove ci vivono, vivono una pluralità di significati, non si riesce a intenderci e tantomeno a prevedere i comportamenti. E allora Platone ha inventato la ragione, l'ha fondato su principi di non contraddizione che dice che il penarello è il penarello e non altro. E infatti le mamme come fanno a insegnare il principio della contraddizione ai loro bambini? Quando il bambino comincia a succhiare il penarello, gli dice no, ecco i no, no servono a delimitare il significato delle cose. Adesso le mamme no non lo dicono più e i ragazzi vengono su come un fan sauvage. Però dovrebbe imparare a dire di no, perché in questa maniera si crea un principio d'ordine. E' chiaro che i bambini sanno nella verità. Se siamo a tavola, abbiamo un piatto, forchetta, cucchiaio, coltello e nessuno si allarma. Nessuno si allarma perché tutti ipotizzano che io uso forchetta e coltello per tagliare la bistecca e non altro. Mica detto. Perché si potrebbe anche infizzare la pancia dei commensali con il coltello. Quindi dov'è la verità? è nella pluralità dei significati, ma non si può vivere nella pluralità dei significati. E allora è nata la ragione come regola per potersi intendere, per poter prevedere i comportamenti. Infatti se voi foste a tavola con un pazzo, non so se gli date, oppure con un bambino, gli date un coltello d'acciaio, gli date un coltellino di plastica e si rompe appena dovesse essere usata come arma contundente. I bambini se non hanno la verità. La ragione è un sistema di regole che ci serve per convivere, ma per creare niente. Ogni atto creativo non è un atto della ragione. Per creare bisogna attingere la propria follia. E noi siamo anche folli. Pensiamo di essere ragionevoli, così giusto per consolarci, ma siamo anche folli. È sufficiente che andiamo a letto, si addormenta la ragione, si addormenta la coscienza e incomincia il teatro della pazzia. Dove i principi della contraddizione non funzionano più perché io sono uno spettatore di un sogno e contemporaneamente anche l'attore del sogno. Oppure l'attore del sogno è un bambino, ma io sono un adulto, però io so che quel bambino del sogno sono io. Oppure una donna, io sono maschio, però so che quella donna sono io. Non funziona il principio di causalità, perché molto spesso nel sogno l'effetto produce la causa. Non funzionano le categorie dello spazio e del tempo. Il sogno comincia in New York e finisce l'impero romano. È la pazzia. Ma a mattina ci alziamo e recuperiamo gradatamente la coscienza. E infatti, se ci fate caso, alla prima mezz'ora del mattino, voi fate sempre le stesse cose. A condurre le vostre azioni è il ritmo, a tuttino. Non siete ancora diventati completamente coscienti. Avete bisogno di un po' di tempo per diventare coscienti. Tant'è che Jung dice che la coscienza, ma in italiano non è una lingua filosofica. Il tedesco chiama la coscienza Bewustsein. Sein vuol dire essere, essere coscienti. Lui dice, non si deve chiamare Bewustsein la coscienza, bisogna chiamarla Bewustverden. Verden vuol dire diventare, diventare coscienti, perché noi diventiamo coscienti ogni giorno, uscendo fuori dallo scenario folle della notte, dove tutte le cose si confondevano. Allora, queste crisi di Stendhal e le crisi che magari potremmo provare noi se abbiamo un minimo di sensibilità creativa e artistica, perché se uno va nel museo e dirà, oh che bello, che bello. Bello è un aggettivo deprecabile. Quando uno non legge un libro e l'autore lì dice se l'ha letto e che impressione ha avuto, si risponde, sì era bello, vuol dire che non l'ha proprio letto. Bello è proprio un aggettivo inflazionato, non significa proprio niente nel contesto abituale della comunicazione. Allora, l'ipotesi è che il soggetto che guarda il quadro con la sua componente folle che tutti noi abbiamo, finché riusciamo ad averla naturalmente, basta bere qualche bicchiere di troppo e il giorno dopo ci dicono ieri sera non eri più tu, eravamo sbandati. Ecco, con la propria follia si entra in comunicazione con la follia dell'artista attraverso il quadro e naturalmente la follia dell'artista può contaminarci e noi abbiamo una crisi. Del resto Heidegger dice che i poeti sono i più arrischianti, arrischianti che cosa vuol dire? Che oltrepassano il recinto della ragione e si immergono nella loro follia per poter creare. Perché sono arrischianti? Perché non è mica detto. Siccome la follia è molto più potente della ragione, puoi entrare nella tua follia ma puoi anche restarci dentro. C'è restato dentro Van Gogh, c'è restato dentro Rilke, c'è restato dentro Hölderlin. E anche quelli che non ci restano dentro fuoriescono. O tu crei con la tua follia, oppure se fai poesie, se fai opera d'arte, fai solo dei segni e usi delle parole biografiche ma non c'è nulla di artistico. L'arte richiede la follia. Carl Asper, che è stato più grande, il psicopatologo del Novecento, dice che ogni volta che noi ammiriamo una perla, dimentichiamo che... ogni volta che noi abbiamo a che fare con un'opera d'arte, ci comportiamo come quando ammiriamo una perla, dimenticando che la perla è la malattia della conchiglia. Così, senza la schizofrenia dell'artista, quell'opera non sarebbe mai nata. Noi chiamiamo malattia della follia. In realtà la follia è il fondamento della ideazione, della creatività. Non si crea e non si producono ideazioni nuove se non attingendo, non nella regola della ragione, ma nella follia che ci ha. E allora l'emozione estetica è un'emozione che ci richiama a questi scenari, molto importanti da trattenere. Poi, tra le varie emozioni, c'è anche l'emozione empatica. Cos'è l'empatia? L'empatia è la capacità di capire cosa passa nella mente e nel cuore della persona che mi sta davanti. Adesso la neuroscienza ci dice che questo è possibile grazie ai neuroni specchi che noi avremmo nei lobi frontali. Altri dicono che i neuroni specchi non esistono, ma lasciamo perdere le loro dispute. L'empatia esiste. Tutti nasciamo empatici. un bambino che ancora non distingue sé dal seno della madre, pensa che il seno della madre sia il suo stesso corpo, non ha ancora la distinzione tra sé e l'altro da sé nel primo anno di vita. Se vede un bambino che piange, si mette a piangere anche lui perché pensa che sia lui a dover piangere. Passato un anno, quando ha due anni, è cominciata la separazione tra sé e il resto del mondo, comincia a capire che lui è una cosa e il resto del mondo è un'altra cosa, altro da lui. Quando vede un bambino che piange, cosa fa? O gli porta un dolcetto, o gli porta un regalino, cioè partecipa emotivamente. Poi l'emozione si può anche perdere, perché se le madri, mi riferisco alle madri, non perché le madri sono colpevoli di tutti, ma perché i padri di solito non parlano del bambino perché si annoiano e quindi tutto resta a carico delle madri. Se le madri non raccolgono le emozioni dei bambini, i bambini si spengono queste emozioni, non le mettono più in azione, perché se io ho un'emozione, esprimo la mia emozione, l'altro raccoglie la mia emozione e mi dice qualcosa, continuerò a provarle per avere queste risposte, perché se le risposte non arrivano si spengono. E se le emozioni si spengono, si spegne tutto, perché il bambino a quel punto ha due strade, o la strada fa la carriera del depresso, i depressi sono quelli che non credono che qualcuno possa raccogliere il loro stato emotivo, oppure fanno la carriera dei narcisisti, cioè non investono più sull'altro, investono su di sé. E gli altri chi sono? Gli altri sono solo un applausometro. I narcisisti sono degli handicapati psichici, manca la struttura della relazione a loro. Però siccome sono brillanti, sono simpatici, sono allegri, sono affascinanti, le donne si innamorano, senza sapere che a lui gli manca l'orghimo della relazione, che non è una cosa da poco. Infatti Freud dice che tutte le nevrosi si possono curare all'infuori del narcisista. Perché il narcisista non riesce a trasferire niente del suo vissuto sull'analista. E queste cose bisogna un po' saperle, no? Anche per non confondersi troppo nella vita. Ma speriamo che qualcosa entri. Bene. Se una ragazza non ha più empatia, se la si può ricostruire nell'età scolare, nell'asile, nella scuola elementare, poi non si può più ricostruire. Perché ci sono dei processi irreversibili. Non è che noi possiamo fare qualsiasi cosa e poi dopo rimediare, no? Ci sono dei processi irreversibili. O lo recuperi in quell'epoca lì o lo recuperi più. Allora, supponiamo che uno abbia spento l'emotività dentro di sé e investa solo su se stesso. E avremo quel fenomeno che si chiama bullo. Chi sono i bulli? I bulli sono quelli che non hanno linguaggio, non provano nessuna emozione nel far male al prossimo. E cosa fa la scuola con i bulli? Li sospende. Invece deve tenerli lì il doppio del tempo per fargli recuperare l'apparato emotivo. Ma la nostra scuola non educa. Lo dico con estrema chiarezza e senza infingimenti. Quando ce la fa, istruisce. Ma educare non ha leppure l'alba. E infatti i bulli vengono espulsi dalla scuola, sospesi. E allora? Come fa a recuperare? Dopodiché non si recupera più. Lo puoi recuperare proprio nella prima infanzia, all'asile, nei primi anni delle scuole elementari. Poi non li recuperi più. E dopo che cosa hai? Questi bulli vivono a livello pulsionale. Vedono uno più debole di loro, li saltano addosso, lo picchiano, ne fanno di tutto. Crescono soggetti da curva nord, da black block, da gente che spacca le vetrine, perché non sentono quello che Kant dice. Potremmo anche non definire la differenza tra il bene e il male, perché ciascuno lo sente, e usa il verbo tedesco fühlen, naturalmente da sé. Non è più vero. Non è più vero che i ragazzi oggi sentono naturalmente da sé, che tutti i ragazzi sentono naturalmente da sé, la differenza tra insultare un professore o prenderlo a calci, l'abbiamo fatto tutti noi, magari non in sua presenza. Adesso lo si pacca in presenza, e lo si prende a calci, anzi ci provano anche i genitori a sentirle cronache. Oppure non sento la differenza tra corteggiare una ragazza e non sto esagerando, perché quando per ragioni giornalistiche mi tocca leggere le risposte che questi ragazzi danno ai giudici inquirenti, che li interrogano, ma ti rendevi conto di quello che facevi? E loro dissi, ma che cosa facevo di strano? Che vengono giù dal pero, gli manca la risonanza emotiva. Capito? Mi ricordo quando sono andato a intervistare nel carcere di Voghera i ragazzi del cavalcavia che buttavano i sassi giù dai ponti, nelle autostrade, alla domanda, ma perché facevate questa cosa? Che gioco giocavate? Ah, noi giocavamo a bingo. Sì, ma sotto c'erano delle macchine, nelle macchine c'erano delle persone. E vabbè, manca la risonanza emotiva. Non la puoi più ricostruire. Basta. Allora hai capito che responsabilità è enorme? La nostra scuola è enorme. Perché l'educazione dovrebbe venire in famiglia, a scuola, a famiglia, lasciamola perdere perché è un disastro. La scuola si esonera. Loro dicono, non siamo psicologi. E studiano la psicologia, se è il caso. È possibile che si diventi professore senza aver mai studiato un trattato di psicologia dell'età evolutiva e hai a che fare ogni giorno con gli studenti in età evolutiva. È possibile questo? Certo che è possibile. È reale. È possibile andare in cattedra e insegnare la divina commedia in carognendosi sulla battaglia di Campaldino, pagina 30, nota 51, invece di recitarlo, non dico come benigno ma presso a poco perché la cattedra tutto è un palcoscenico quindi i professori per diventare professori dovrebbero anche fare un corso di teatro, magari, pochino, se non altro per saper leggere i testi della letteratura con un po' di partecipazione e capacità teatrale. Ma tutto questo non avviene. e soprattutto non avviene che ci siano professori empatici. Io vado dicendolo da tempo che per diventare professori migliore a sottoporre i candidati a un test di personalità e vedere se hanno non hanno empatia. Perché se non hanno empatia non devono fare i professori come uno alto 1,50 non può fare il corazziere mica si lamentano. E anche i professori se non hanno empatia è un tormento anche per loro andare in classe ogni giorno senza avere una partecipazione emotiva con i loro studenti. Non solo non hanno una partecipazione emotiva ma possono demotivare gli studenti mandarli in depressione indurli magari a gesto estremo guardate che se ne suicidano tanti semplicemente perché hanno vinto un concorso no non funziona così non può funzionare così una squadra. Bene allora l'epatia è una cosa importante e se non ce l'hai non fare il professore. Non basta svolgere il programma ministeriale Platone dice che non si apre la mente se non hai aperto il cuore. è uno che non ha empatia i cuori non li apre e noi stessi abbiamo tutti quanti un'esperienza scolastica che ci siamo impegnati con i professori che erano dei veri maestri o che ammiravamo e studiavamo le loro materie anche per non fare brutta figura davanti a loro se non altro per ragioni narcisistiche e tralasciavamo le materie dei professori che ci avevano demotivati naturalmente questo prevede anche che si abolisca il ruolo perché se uno di ruolo e non ha empatia può demotivare per 40 anni fin quando non va in pensione gli studenti no vabbè pensateci poi c'è l'amore dall'amore non dico niente se non dovrei fare una conferenza però l'amore è follia lo dice Platone dice che ci sono quattro tipi di follia la follia profetica è chiaro che uno che predice il futuro non lo fa con gli strumenti della ragione deve ricorrere a intuizioni folli la follia iniziatica che è la follia che caratterizza l'adolescenza i passaggi di stato dall'adolescenza alla panciullezza dalla vita dalla vita da single alla vita di coppia dalla vita alla morte là insomma dove la chiesa dove la religione cristiana ha pissato i sacramenti i sacramenti sono dei luoghi di iniziazione la follia delle muse perché l'arte Platone dice è prodotto della follia e le muse sono le protettrici della follia e poi la più eccenza la più divina che è la follia d'amore da resto senza fare un trattato sull'amore che non voglio fare questa sera anche il linguaggio popolare che cosa dice mi fa impazzire quando si fa l'amore mi fa impazzire oppure con te perdo la testa in realtà l'ha già persa ma proprio perché l'amore è una discesa rigorosa nella propria follia che l'altro mi ha svelato per cui mi ha messo già a nudo prima ancora che mi spogli perché il pudore non è una faccenda di vesti sottovesti ma il pudore è proprio la propria interiorità perforata per cui si arriva alla propria follia grazie all'altro e poi grazie all'altro si riemerge dalla propria follia e l'io che entra nella follia d'amore quando esce dalla follia d'amore non è più lì di prima per cui amore è anche generativo tutti quelli che hanno una storia che finisca bene o che finisca male l'io che è la parte razionale che entra in una storia quando ne esci quell'io lì ha fatto la sua immersione nella follia non è più lì di prima non so se capite queste cose spero di sia almeno 10% vi prego se non c'è più forza per andare avanti andiamo avanti dunque oggi noi viviamo viviamo nell'età della tecnica e che cos'è la tecnica la tecnica è la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo la sua formula è molto semplice raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi è una razionalità che la tecnica ha in comune con il mercato solo che il mercato conserva ancora una passione umana che è la passione per il denaro da cui la tecnica è del tutto esenerata non confondiamo la tecnica con la tecnologia la tecnologia è questo microfono il frigorifero che avete a casa l'automobile che avete in garage il computer che avete sul tavolo il telefonino che avete in tasca che seguono la logica della tecnica ma la tecnica è razionalità rigorosissima i suoi valori sono efficienza funzionalità produttività velocizzazione del tempo che ha già superato il tempo psicologico è già al di là del tempo di cui la nostra psiche è capace la tecnica non tende a uno scopo non apre scenari di salvezza non dischiude orizzonte di senso non redeem non dice la verità la tecnica funziona il suo funzionamento è diventato globale e proprio per questo la tecnica non è più uno strumento nelle mani dell'uomo ma è un mondo è il concetto di strumento è diverso dal concetto di mondo noi siamo nella tecnica nel 1968 Martin Heidegger è stato intervistato dal direttore di Der Spiegel che è il giornale più diffuso in Germania a proposito del tema della tecnica e Heidegger ha detto la tecnica tutto funziona questo è l'inquietanza è che tutto funziona e il funzionare produrrà un ulteriore funzionare e poi dice Heidegger al direttore di Spiegel non so se lei è rimasto impressionato del fatto che siamo sbarcati sulla luna io sono stato molto impressionato l'ho assunto come simbolico che noi non abiteremo più la terra ma per questo dice non abbiamo bisogno di andare alla bomba atomica perché già da tempo siamo sradicati dalla terra perché il mondo in cui noi viviamo è la tecnica 1968 non c'era ancora l'informatica non c'era ancora gli sviluppi che era giunto oggi e già diceva queste cose Heidegger che aveva ben capito alla tecnica le emozioni non interessano niente anzi sono elementi di disturbo nel funzionamento procedurale dove tu devi eseguire le azioni descritte e prescritte dall'apparato punto a capo e sei bravo se esegui le emozioni sono solo elementi di disturbo vi porto un piccolo esempio così capite subito un esempio che porto quando parlo della tecnica ma lo ripeto qua per farvi capire in che senso le emozioni non contano niente nell'età della tecnica anzi vengono rimosse messe via non devono interferire nelle procedure tecniche c'è un giornalista ungerese naturalizzato inglese che ha fatto 170 interviste a Franz Stangle che era il direttore del campo di concentramento di Treblinka per 170 volte gli ha detto cosa provava a fare quelle cose che faceva Franz Stangle non ha mai risposto a queste domande alla fine a Gitta Sereni viene una tuizione vuoi vedere che Franz Stangle non risponde non perché si vergogna ma perché non capisce la domanda alla fine Franz Stangle risponde scusi ma come si continua a chiedermi cosa provavo io non ero incaricato di provare qualcosa eccole qua le emozioni io ero incaricato di far funzionare il sistema il sistema prevedeva 5.000 soppressioni di persone entro le 11 del mattino 3.000 entro le 5 del pomeriggio l'indomani bisognava riprendere questo stesso ritmo e io che ero in grado di assicurarlo in una maniera perfetta ero un ottimo funzionario punto le emozioni nella procedura non devono assolutamente entrare Gunther Anders che è un allievo di Adige dice che il nazismo è stato il modellino dell'età della tecnica dove le emozioni non devono assolutamente entrare se un capo area dice al funzionario tu mi devi vendere mille titoli deteriorati al mese perché ne abbiamo quattro qui dobbiamo smaltirli il funzionario può provare qualcosa può davvero esonerarsi dal farlo sì lo può però perde il posto l'età della tecnica non è altro che la messa in atto generalizzato del modellino nazista quando Gunther Anders era chiesto chi ha buttato la bomba su Hiroshima e Nagasaki gli ha detto cosa hai provato a buttare la bomba su un popolo che neanche sapevi che esisteva neanche sapevi dove era la cui cultura tira del tutto ignota l'hai provato lui non rispondeva mai poi il New York Times ha detto dai adesso rispondo non possiamo più continuare a riproporre ogni giorno la domanda di Gunther Anders e lui ha risposto cosa ha provato nothing that was my job niente questo era il mio lavoro ma cosa vuol dire il suo lavoro lui è stato bravo perché è stato bravo perché le bombe le ha sganciate proprio là dove era previsto non le ha buttate nel mare o nella campagna proprio Hiroshima e Nagasaki quindi è bravo allora quando uno è bravo nel suo lavoro non per ciò che fa ma per come lo fa e come lo fa secondo le azioni descritte e prescritte dall'apparato punto ditemi se non è vero anche quando siete al lavoro dovete fare le cose come sono prescritte o descritte dall'apparato senza interferenze emotive andate in ospedale avete una malattia ho sentito in un convegno di cardiologi ha parlato un medico che era ritenuto il numero uno al mondo di cardiologia e ha detto che i pazienti cardiologici si rispongono in una curva di Gauss dove quelli che stanno in mezzo che sono i più se applichi il protocollo va bene se lo applichi a chi è all'inizio o alla fine di questa curva di Gauss se lo applichi lo ammazzi mettiamoci nel pedale io sono un medico e dico dunque questo qua effettivamente è all'inizio se applico il protocollo lo ammazzo ma se non lo applico poi muore io vado nei guai cosa faccio? applico il protocollo a scuola questa bella aula di serenità e di gioia dove vengono educati istruiti tra i bambini quando un professore compie esattamente svolge per tutto bene il programma ministeriale è a posto ma guardate in faccia ai ragazzi no no non li ha mai guardati in faccia e quando qualcuno si suicida viene fuori alla televisione dice ma chi l'avrebbe mai detto ma appunto ma ha svolto il programma ministeriale sì quindi a posto uno invece ha interagito con loro ha curato i loro processi emotivi ha parlato con loro è stato accanto a loro non ha finito il programma ministeriale va nei guai questa è la tecnica mettetelo in mente sebbene il modellino è nazista la tua responsabilità non è con chi hai di fronte è solo nei confronti ai tuoi superiori e quanti nazisti nei processi dicevano ma io ho obilito agli ordini risposta esatta nell'età della tecnica quando io vado in posto a pagare le bollette perché non sono capaci di pagarle online e vedo le vecchiette che chiedono alle impiegate un po' di informazioni non capiscono bene le cose devo dire che le impiegate sono molto gentili almeno nell'ufficio postale dove vado io le stanno ad ascoltare poi cosa gli dicono vede signora questa non è di mia competenza Franz Stanley recitato nei bei modi capito bene cos'è la tecnica la tecnica non ospita emozioni non ospita emozioni e allora se vuoi funzionare bene sul tuo posto di lavoro metti a tacere le emozioni lunedì e se proprio vuoi tira le fuori il sabato alla domenica se ancora sei interessato a te perché altrimenti vai pure in coda a fare il weekend da qualche parte così almeno ti distrai da te perché ciascuno oggi è diventato il peggior nemico di se stessa vuoi indagare se stessa vuoi questo per converso ci sono quelli che dicono io non ci sto a questo regime della tecnica allora io mi comporto come sento io io sento così come tu senti così quello che sentono gli altri non conta niente cioè vivi nell'isola di Robinson da solo ecco io sento così non è una via d'uscita da questo sistema è uno dei degradi della cultura cristiana che è stabilito che la salvezza dell'anima è individuale la cosa più importante por lo unum necessarium è salvare anima la cosa più importante è salvare l'anima siccome l'anima la salvi individualmente autorizzi questo individualismo peraltro ben tematizzato da Agostino di Pona il quale dice che la salvezza dell'anima a questo provvede alla religione giustamente e allo Stato allo Stato non si dà il compito di fare il bene della comunità ma solo di togliere gli impedimenti che si frappongono alla salvezza dell'anima quindi un compito solo negativo tant'è che Rousseau dice che i cristiani non sono buoni cittadini lo possono essere di fatto ma non di principio perché quel che a loro interesse non è la sorte della società ma la salvezza della loro anima questo lo dico non per attaccare il cristianesimo ma per far vedere una configurazione tipica di questo scenario contrapposta alla configurazione greca dove Aristotele dice se uno entra in una comunità e pensa di poter fare a meno degli altri o è bestia o è Dio l'uomo no l'uomo non può fare a meno l'uomo lo definisce zoon l'uomo è un animale che parla tu non è che parli da solo anche se oggi si vedono quelli con le robe nelle oreche che parlano da soli hanno impressione comunque arriveremo anche a questa perversione ecco non funziona io faccio come sento anche perché il tuo sentire muta e dopo stabilisci che la libertà consiste nella revocabilità di tutte le scelte mi sposo alla sola condizione che posso divorziare voglio un figlio però alla sola condizione che posso abortire non sto dicendo che bisogna fare l'una o l'altra cosa ma semplicemente la revocabilità delle scelte diventa la configurazione della libertà la libertà non è più un processo di costruzione biografica secondo un certo stile ma diventa la revocabilità di tutte le scelte per avere sempre l'orizzonte aperto io sento così e allora va bene poi poi le emozioni le emozioni vengono sfruttate moltissimo dal mercato quando voi andate al supermercato non è che vedete che di essere inosservate lì non c'è l'occhio di Dio che ti guarda ma ci sono gli occhi delle telecamere che poi i cui dati vanno poi gli operatori di mercato per vedere quanto tempo ti fermi davanti a un prodotto come lo guardi come lo consideri se lo deponi se lo prendi quanto ne prendi ti controllano micro bisogni micro desideri micro comportamenti e poi a partire da lì costruiscono una sorta di scenario in cui è specializzata la pubblicità che non vende prodotti attenzione bene la pubblicità non vende prodotti la pubblicità pubblica bisogni quando il bisogno è interiorizzato ti fa vedere il prodotto e i bisogni li ha ricavati dall'osservazione dei nostri comportamenti negli acquisti persone oltre le cose oltre che persone sono le cose che importano bene allora cosa succede succede che il consumo il consumo ad opera la pubblicità è una macchina formidabile ripeto non produce beni produce bisogni quando i bisogni hanno la sensazione che sono interiorizzati ti fa vedere il bene vi inviterei a leggere quel bel libro di come si chiama secondo sei vecchio io perdo i nomi Friedrich Bikebader che ha scritto che era il stato più grande pubblicità del novecento ha fatto tanti di quei soldi da far paura che però nei primi anni del duemila si è messo a scrivere un libro intitolato 34 euro e rotti pubblicato da Fettrinelli e qui dice sono pubblicitario ebbene sì inquino l'universo sono quello che vi vende tutta questa merda bene ragazzi in photoshop luci estraboscopiche quando avete raccolto tutti i vostri soldi per comprare la macchina dei vostri sogni io nella successiva campagna elettorale ne avrò prodotto una ancora più nuova di quella dei vostri sogni perché il pregio della novità dice sempre Bike Builder è che non resta mai nuova dalla vostra felicità a noi pubblicitario non importa niente perché chi è felice non consuma ragazzi riflettiamo su queste cose chi è felice non consuma oggi noi viviamo una società dei rifiuti meraviglia perché io da piccolo non vedevo rifiuti non c'erano rifiuti non so a mia età io ho 80 anni c'erano rifiuti 70 anni 60 anni fa non lo so non c'erano rifiuti adesso invece ci sono questi camion enormi che passano raccogliono l'infinità di rifiuti e dice bene se trattiamo il mondo come un mondo da buttare via apri chiudo la parentesi un terzo dei cibi che noi compriamo ributtiamo via un terzo tanto bene se trattiamo il mondo come un mondo da buttare via dice finiremo per trattare l'umanità stessa come un'umanità da buttare via e ci siamo già arrivati anche qui poi le emozioni vengono utilizzate in quelle trasmissioni a mio parere peggiori della pornografia però autorizzate perché noi pensiamo che lo sconcio siano solo i corpi nudi mentre la pubblicizzazione della propria interiorità e la messa in piazza della propria intimità quello non è sconcio come quelle trasmissioni in cui si fa dire ai giovani come ami come odi quando ti sei innamorato che cosa hai metto in mente che trasmissioni sono ecco quando tu hai messo in piazza la tua interiorità non ce l'hai più perché prima era tua adesso è di tutti e tu te l'hai persa la tua interiorità l'hai esteriorizzata ti sei depsicologizzata che è molto più pericoloso che togliere i vestiti molto più pericoloso solo che queste trasmissioni fanno passare questi loro comportamenti li fanno passare per sincerità non ho niente da nascondere nulla di cui vergognarmi in realtà si tratta di spudoratezze lo dicevo prima il pudore non è un facendo di vesti sotto vesti il pudore è quello di esteriorizzare la propria interiorità per cui io resto disottito senza interiorità è tutto sulla piazza da ultimo le emozioni funzionano perfettamente in politica in occasione del populismo cosa chiamiamo populismo il rapporto tra il capo e il popolo con eliminazione scientifica della classe intermedia delle competenze vi ricordate quando c'era il covid quanta gente si era messa a deridere i medici gli immunologi i virologi vi ricordate ora dovete sapere che la tecnica mette sul tavolo oggi dei problemi che oltrepassano di gran lunga la nostra competenza se ci dicono se dobbiamo o no aprire le centrali nucleari io per decida dovrei essere un fisico nucleare siccome non sono un fisico nucleare come faccio a decidere ho una fede allora sto ascoltando quello che mi dice il papa appartengo a un partito sto ascoltando quello che mi dice il mio partito oppure mi piace quel personaggio lì faccio come dice lui oppure mi lascio commuovere dalla retorica di un altro e faccio come dice lui ma questa non è più democrazia perché noi scegliamo a questo punto su base irrazionale e pensate che la democrazia che è stata inventata da Platone democrazia è una parola greca demos vuol dire popolo kratos vuol dire potere potere al popolo ebbene dice Platone perché si può sottuare la democrazia bisogna cacciare dalla città i retori e i sofisti i sofisti perché ingannano la gente con falsi silogismi con paralogismi con false notizie i retori perché l'ingannano con la mozione degli affetti con il trascinamento dell'effetto della parola della retorica e invece per decidere bisogna sapere oggi noi non possiamo sapere perché ho detto prima la tecnica mette sul tavolo problemi che oltrepassano la nostra competenza e allora dobbiamo tenere conto di quello che dice la scienza ne teniamo conto? no non ne teniamo davvero conto perché quanta gente con la sua idea personale cresciuta negli intervalli tra i neuroni già desertificati hanno stabilito che la scienza è un inganno è una prepotenza è una riduzione della libertà vi ricordate queste cose le avete dimenticate ce le ricordiamo ora la scienza è un sapere oggettivo valido per tutti che sottopone a esperimento le sue ipotesi e gli esperimenti devono essere riprodotti ovunque da chiunque con il medesimo risultato se questo non basta no io ho un'idea diversa correggiamo le idee ragazzi correggiamo le idee e allora togliendo via i competenti ecco che allora il popolo ha la possibilità il capo ha la possibilità di parlare direttamente col popolo il quale tra l'altro non è neanche tanto istruito ma non per colpa sua perché non ha studiato questo senz'altro ma poi anche perché ho detto prima ci sono dei problemi che oltrepassano la competenza media vogliamo gli organismi geneticamente modificati dovrei essere un biologo oppure un genetista per riuscire a capire se conviene o non conviene ma non lo so allora mi fido di quelli che sanno e sapere non è e sapere ha aiutato l'umanità l'ignoranza non l'ha mai aiutata e giustamente dice quando l'umanità diventa greggia vuole una sola cosa l'animale capo oh uno che decide per me siamo a posto ci pensiamo non precipitiamo in questo scenario anche se siamo molto avviati su questo scenario bene da ultimo c'è due parole sull'informatica l'informatica in quanto tempo passiamo davanti al computer e davanti al telefonino ormai il mondo è lì non è più fuori una volta per conoscere il mondo uscivi di casa adesso per conoscere il mondo raccontavo prima ad Alberto Albertini mentre bevevavo un piccolo aperitivo che un altro giorno tornavo a casa avevo voglia di fumare avevo le sigarette sono entrato il tabaccaio ho comprato le sigarette sono uscito fuori c'erano due ragazze che mi hanno conosciuto siamo messi a parlare ho chiesto se avevano un accendino non ce l'avevano però poco più là mi hanno indicato che c'era un bar a 20 metri dove una ragazza fumava dico provi a chiedere con le ragazze sono andato là gli ho chiesto l'accendino lei me l'ha tirato lì senza neanche guardarli io ho acceso la sigaretta glielo l'ho istituita sono tornato dai ragazzi e gli ho chiesto ma voi non guardate più di fronte e gli ho detto eh no professore noi guardiamo così ridete ridete noi guardiamo così perché il mondo è lì ormai allora l'informatic la rete non è un mezzo a vostra disposizione la rete è un mondo e voi non potete che abitare quel mondo tutti noi non possiamo fare a meno di abitare quel mondo è una vostra scelta avere il telefonino no non è una vostra scelta mi ha accompagnato il mio nipotino a scuola una volta c'era una signora che mi ha detto ma professore c'è il mio bambino che fa la quarta elementare vuole uno smartphone e io gli ho detto glielo dia cosa può fare l'altro ma come cosa sta dicendo io vorrei almeno aspettare no glielo dia perché se non glielo dà non è che lo priva di un mezzo di comunicazione di uno strumento tecnico lo priva della socializzazione allora la tecnica è già entrata nella società a dire come dobbiamo comunicare con che tempistica dobbiamo comunicare molto velocemente quindi la tecnica è un mondo e quali sono i disastri che produce e non sono pochi faccio un breve leggo poi smetto perché siete stanchi il primo disastro è la derealizzazione io posso andare a visitare Roma senza esserci mai andato posso nuotare nell'oceano senza neanche bagnarmi mi alleno a simulare le cose che non so fare che non che non sono abituato a fare per del contatto con la realtà che non è una cosa da trascurare la desocializzazione quando i ragazzi si lamentavano della distanza sociale quando facevano la DAD non ha creato il virus la distanza sociale il virus ha creato una distanza virale ma la distanza sociale l'ha creata l'informatica quando io per parlare con te uso il computer uso il telefonino se la comunicazione passa sostanzialmente attraverso questi mezzi se non passa più attraverso la frontalità io e te davanti uno all'altro se persino la sessualità si è trasferita dal rapporto di due persone alla visualizzazione di scenari pervertiti e quindi più interessanti magari di quanto non sia la relazione sessuale tra due persone beh allora siamo già in un altro mondo in un altro mondo adesso la socializzazione è importante poi i computer e i telefonini ci fanno vedere delle immagini delle immagini e oggi quello che i ragazzi sanno non lo sanno perché hanno letto perché hanno perché l'hanno letto ma lo sanno perché l'hanno visto l'hanno sentito la lettura sta sparendo non perché non si leggono libri ma persino i libri della prima elementare sono pieni di immagini che coprono tutta la pagina con piccole cose in grosso sottolineate oppure evidenziate in giallo da leggere una riga due righe cioè la sovrabbondanza dell'immagine rispetto alla scrittura quando noi andavamo a scuola io mi ricordo ah si diceva ancora ah i figli li vedo la prima e la seconda elementare non c'erano immagini era tutto scritto cosa perdiamo con le immagini che ormai si muoviamo in un mondo di immagini perdiamo la facoltà mentale pazzesca perché quando tu leggi devi tradurre dei segni grafici ad esempio cane io devo tradurre che c a n e e devo costruire l'immagine del cane quindi il mio cervello è obbligato a tradurre dei segni grafici in immagini ma se l'immagine c'è lì davanti il mio cervello è esonerato e dopo diventa la fatica poi a leggere non vi è meravigliato che oggi sono tutti dislessici disgrafici a calcoli c'è via di seguito a parte l'invasione dalla psichiatria nelle scuole elementari ma c'è anche il fatto che non leggono e quindi non impari a leggere non è che sei disgrafico o dislessico perché non leggi altro che insegnante di sostegno esercizio ah beh poi ci sono un po' di catastro che arriveranno gradatamente le emozioni con l'informatica come si esprimono con le faccine siamo ritornati ai disegni rupestri dei primitivi non riusciamo più a trovare parole per dire quello che sentiamo è disastroso io quando uno mi mette la faccina non rispondo più non rispondo per educarlo per dire no finché non ti faccio non so cosa vogliono dire quelle facce lì che devono essere anche interpretate quelle facce lì non si sa se uno si lamenta se uno piange è pazzesca questa cosa no è veramente brutta questa cosa qua e però noi non possiamo farne a meno potete lavorare senza computer potete studiare senza computer e cosa facciamo con la nostra scuola la riempiamo di computer adesso poi con la digitalizzazione dai computer a go go c'era Clifford Stoll quello che ha fatto del computer un fenomeno di massa negli anni 60 dice io sì certo non posso parlare male del mio computer ha scritto un libro intitolato un eretico high tech edito da Garzanti non posso parlare del computer l'ho inventato io l'ho diffuso io se qualche imprenditore pensa di poter fare più soldi con il computer rispetto al primo che prendo pure cinquattro computer per carità ma nella scuola mai perché perché un'ora di computer non vale dieci minuti di un maestro che ti insegna in maniera frontale e allora l'intervistatore gli dice ma sì però se uno ha un cattivo maestro il computer può dargli delle informazioni che non arrivano dal maestro e fa se uno ha un cattivo maestro i cattivi maestri si licenziano e si prendono quelli bravi effettivamente deve funzionare così la macchina non funziona così state tranquilli no state piuttosto inquieti altro che tranquilli chiudiamo col vostro cellulare regrediti a livelli infantili spaventosi quando un bambino la mamma esce dalla stanza cosa succede? si mette a strigliare come un pazzo perché non tollera la distanza e voi invece quando mandate un messaggio a una persona che vi sta a cuore non arriva la risposta e cominciate voi a non tollerare la distanza allora un altro messaggio e poi cominciate a nervosirvi regredita la fase infantile di neonatale e allora però vi dà una mano la tecnica perché vi dà quelle app che voi potete vedere dove è la persona con chi è quella persona in che luoghi frequenta con chi sta parlando che cosa sta facendo e se quello è capace abbastanza bene di mentire riesce anche a salvarsi ma non sempre ci si riesce e voi vi trasformate acquisite una sorta di delirio di onnipotenza traducendoli in investigatori privati si chiama amore questo mo ero sul treno stasera mentre veniva a Brescia c'era un signore che aveva un gran bisogno di far sapere a tutto lo scompartimento chi era parlava ad altissima voce al telefono esclusivamente per farlo sentire a tutti che lui era importante e lui era per davvero e che è qui e che là e che c'ha questo qui è un personaggio che soffre dell'angoscia e dell'anonimato e allora bisogna far sapere a tutti chi è perché se no questo sta a significare che la sua identità gliela danno gli altri perché noi tutti noi la nostra identità ce la danno gli altri quando noi stabiliamo che la nostra identità dipende dai numeri dei like o dai numeri dei follower l'abbiamo già consegnata agli altri la nostra identità non mi pare una grande bella impresa e poi in questo mondo che è la rete abbiamo anche l'illusione di essere liberi vero? siamo liberi cellulare siamo liberi liberi di far che cosa liberi che libertà c'è con un cellulare? di solito si intraprendono operazioni di maleducazione sia a tavola sia lì in quattro arriva una telefonata boom si rompe un clima il mondo circostante sparisce e ci si mette in comunicazione con un altrove e poi quello finisce la telefonata dice scusate scusate pedate nel sedere fuori dal ristorante perché eravamo qua a discutere bisognosi di rispetto reciproco non si risponde al telefono se si va a mangiare ma voi ridete ma guardate che non è una bella cosa poi magari abbiamo bisogno anche di silenzio il mondo interiore ha bisogno di silenzio invece no il silenzio mette angoscia per cui ovunque c'è rumore ovunque c'è suono ovunque c'è musica ovunque ci sono orecchie che sentono e poi la libertà ma che libertà vi dà il cellulare perché se uno telefona dovete rispondere se non rispondete prima o poi dovete giustificarlo e non è che tutte le volte potete dire che eravate in galleria o che non c'era campo è però la cosa più bella perché ogni tanto capitano queste fantastici gioche di parole che il telefonino ha lo stesso nome del mezzo di trasporto dei detenuti cellulare e questo dovrebbe fare il lettere grazie iscriviti al canale e clicca la campanellina per non perdere neanche un video rinascimento culturale ti ringrazia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti